OSTRI! E anche su R101, da lunedì al venerdì! Popcaffè, momenti di intenso piacere. Michelle Luntziker e Jerry... Jerry, un bacio di voi a casa! E' tutto il giorno che sono seduto, ci vorrebbe qualcosa che mi tiri su, avete una gru! Abbiamo di meglio, un caffè! Eh sì, cosa c'è di meglio di un buon caffè quando si sta a casa? Ecco Popcaffè, con le sue capsule compatibili con tutti i tipi di macchinetta. Popcaffè è un mix perfetto di profumo e aroma eccezionale! Senti che fragranza! Mmm, che meraviglia! Grazie alla meticolosa selezione dei chicchi di caffè, le più prestigiose arabiche del centro-sud America si incontrano con le migliori robuste del sud-est asiatico. E il risultato è un espresso formidabile! Puoi scegliere tra quattro miscele strepitose, intenso, cremoso, arabico e decaffeinato. E anche tra una ricca gamma di bevande solubili. E se acquisti una confezione di 100 pezzi, hai il regalo a un fantastico bicchierino in vetro da collezione. E corro a comprarle! Gabibbo è semplice! Vai sul sito popcaffè.it e ordina le tue! Popcaffè! Momenti di intenso piacere! Popcaffè! Momenti di intenso piacere! In questi giorni...